fratelli bianconeri e sorelle bianconere una format oramai che è sempre presente ogni settimana questa settimana più che mai quindi iscrivetevi al canale like al video commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunte da questo contenuto ovunque voi siate il metro non solo arbitrale nicolino ciao mirco ciao claudio e ben ritrovati a tutti oggi abbiamo anche il compasso oltre al metro attenzione perché dobbiamo 360 gradi dobbiamo misurare anche l'angolo con cui viene calciato il pallone lontano perché se viene calciato fendente non è cartellino giallo se invece l'angolo è più marcato e va verso l'alto non è ammunizione abbiamo anche il compasso bravo bravo mirco ci sta aprendo una finestra non sul mondo ma sul var e sul metodo del giudizio arbitrale nelle ammunazioni quindi parti capire che se tipo rabbio tu appoggi via il pallone no nel senso che lo butti lì ma con tranquillità è giallo giusto ok mentre se tipo parella lo scalci via o tipo brozzo vicino finale di capo italia lo scalci via con violenza non è giallo giusto no l'importante è che arrivi in tribuna che l'angolo del calcio sia più ampio possibile ha il differenziale quindi poi nel giudizio è l'angolo è l'angolo va misurato col compasso e sappiamo se è ammunizione o meno ecco allora come si spiega che la juventus ha 50 gialli loro sono 24 c'è un metro strano non c'è una uniformità di giudizio che poi è quello che ha chiesto il direttore sportivo del dell'ellas verona che ora è sotto inchiesta da parte della procura federale semplicemente si è chiesto come mai eh oltre ovviamente a dire che secondo lui ci sia un disegno dall'alto si è chiesto comunque come mai episodi identici in partite differenti vengano giudicati in maniera diversa poi fa specie che magari c'è un presidente che dice che gli arbitri eh sbagliano perché non gli arriva l'ossigeno al cervello perché sono fuori di testa e nessuno apre un fascicolo ma questo è un altro discorso di questa lega abbastanza eh strana chiamiamola strana ma la la verità sai che il ruolo del del presidente annebbia un po' eh a volte sai un po' sì 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 no la questione la questione cogliamo l'occasione non c'entra niente però lo faccio eh per ricordare no eh non solo l'Italia Germania quattro a tre ma quello che è stato Franz eh Beckenbauer che ci ha lasciato proprio in queste ore che ha cambiato un po' il calcio perché tutti parlano l'Olanda cioè è Beckenbauer che ha cambiato un po' il calcio o no? È è un'icona di un ruolo che eh eh per anni è stato quello di eh leader di eh regista eh arretrato come lo possiamo chiamare come vogliamo negli anni quanti sono stati eh paragonati a Beckenbauer nessuno però se Shirea ha fatto Shirea lo deve un po' anche Beckenbauer Beckenbauer è stato Beckenbauer c'è poco da fare c'è poco da fare quando a Bonucci volevamo rimproveragli qualcosa eh gli dicevamo oggi sei Bonny Bauer eh sì sì oggi vuoi fare Beckenbauer no no sui cartellini la verità è che non ha mai preso un rosso a Beckenbauer capito? Eh anche Shirea vedi vedi come cambiano i tempi vedi come cambiano i tempi sì ma la Juve invece non ha mai preso una una var review anche lì sarà un caso però e no ma attenzione perché oggi la risposta all'articolo di tutto sport perché mi stanno taggando eh in tantissimi tifosi di soprattutto tifosi dell'Inter e del Napoli che mi chiedono eh sì avete più cartellini di tutti ma non avete un rosso contro e non avete un rigore contro eh probabilmente non c'era eh quindi attenzione eh attenzione no immagino che tu gli abbia risposto non avremo rigori contro ma voi ne avete otto a favore noi quattro no non ho risposto perché perché il ragionamento è sempre lo stesso quando non danno i rigori alla Juventus ci dicono probabilmente non c'erano ok quindi se non li danno anche i nostri avversari contro di noi vuol dire che non c'erano o no o non vale questa è univoca questa questa discussione no la questione cartellina è seria. I nostri avversari sono in difficoltà la verità è questa Mirko sono in difficoltà sai perché sono in difficoltà seria difficoltà perché tutto quello che hanno portato avanti per decenni erroneamente perché basta prendere tutte le contestazioni fatte alla Juve e si trovano tutti i favori anche alle altre squadre e gli errori anche contro la Juve adesso improvvisamente gli esplodono contro e quindi siccome sono loro che hanno portato avanti il clima del veleno adesso nel clima velenoso e non sanno come uscirne quella è la verità. Sì la questione è che quando noi dicevamo guardate che le partite della Juve vengono vivisezionate da arbitri, var, giornali, migli eccetera ci dicevano ah ma fate le vittime vi sentite accerchiati eccetera. Faccio un esempio perché io quegli anni li ho vissuti nel famoso anno in cui c'è il contatto Ronaldo Giuliano c'è Taribo West che rischia di far finire la carriera a Kancelskis in Inter Fiorentina e Taribo West non viene espulso in quella partita. Quello lì fu secondo me quell'anno l'errore più clamoroso eppure non è mai stato vivisezionato da nessuno. Ora siccome stanno... Scusami ti aggiungo a parte che ce ne sono altre 12 partite di cui loro hanno... La simulazione di Moriero col Torino cioè ne possiamo citare... Facciamo l'elenco però basta basta casualmente perché poi perché poi basta essere ottenuti a osservatori basta casualmente prendere il famoso Giuliano Ronaldo e guardare cosa è successo nel derby d'Italia da andata a San Siro dove loro vincono 1 a 0 e West affossa in zaghi ed era calcio di rigore netto. Assolutamente. E qui ti voglio però su questo tema perché come dico sempre io cari ragazzi e cari ragazze loro hanno campato e continuano a campare di Giuliano Ronaldo perché ogni santo anno che il Signore ci manda sulla terra ogni santo derby d'Italia lo ricordano come come fatto acclarato poi fa niente che i dieci successivi episodi uguali la moviola rosa ha scritto che non sono mai rigori ma loro campano di quella rolica fatto acclarato. Se noi facessimo la stessa cosa e cioè tutti gli anni iniziassimo ad andare nelle televisioni nelle radio sui giornali a dire il 98 il rigore clamoroso non dato alla Juve per West. Probabilmente dopo 30 anni il mondo si accoggerebbe che c'è quell'episodio. Allora io ti chiedo arrivati a questo punto visto che è una battaglia mediatico politica non è arrivato il giorno in cui anche noi mondo Juventus purtroppo dobbiamo iniziare a metterci a livello se vogliamo non dico vincere la battaglia politico mediatica ma almeno parteciparci? Guarda io per per quello per quello che riguarda me personalmente ho sempre parlato di episodi arbitrali e continuerò a farlo sempre ma di qualunque partita perché secondo me spesso passano in cavalleria anche episodi gravissimi di partite magari che riguardano la zona retrocessione solo che lì non interessa a nessuno. Allora gli episodi secondo me vanno evidenziati sempre. Poi noi non abbiamo nessun problema a dire che quest'anno l'Inter è la squadra più forte perché ha due squadre rispetto alla Juventus che gioca con sei ragazzini tre 2003-2005 a volte anche contemporaneamente in campo però poi gli episodi dobbiamo analizzarli e dobbiamo evidenziarli e dobbiamo anche vivisezionarli come è stato fatto per quelli della Juventus per tanti anni perché poi le falsità o anche le mezze verità passano per storia che storia non è perché oggi stamattina è ritornato il refrain ma come può un parlare di ammunizioni un quotidiano che difende una squadra che ha chiuso l'arbitro nello spogliatoio e quindi ritorniamo addirittura all'arbitro. Fatto mai esistito è successo ma diventato reale nel mondo. Sentenziato dal tribunale di Reggio Calabria come fatto mai esistito. E allora se tu sei la squadra più forte perché dicono dove è la differenza? La tiro fuori io la differenza. Se tu sei la squadra più forte gli altri giocano con i ragazzini e tu e tu gli tiri fuori due squalificati a partita che più gli infortunati ovviamente e gli squalificati che ci dimentichiamo perché Pogba e Fagioli sono squalificati. Pogba è sospeso in attesa di giudizio. Pogba è sospeso in attesa di giudizio. Intanto però non puoi giocare. E Fagioli è squalificato su una cosa che mi avevano spiegato sarebbero venuti fuori tutti i giocatori di taglia delle scommesse e non è venuto fuori nessuno. E mettiamola lì. In più mi dai le ammunizioni più di tutti e ho altri squalificati quindi fra un po' non ci sono neanche gli 11 per andare in campo. Contemporaneamente perché questo è un dato oggettivo. In 18 partite di campionato 8, dico 8, tu hai degli errori favorevoli, colossali e beh, e beh, e dai, e dai. Cioè non si fa a non affrontare questo tema. Cioè qui sì che è da affrontare questo tema. Cioè quello che dico io è non è se c'è un episodio o due e va bene vincere la più forte alla fine dell'anno. Ma se c'è un episodio o due, se metà delle partite sono episodiate, c'è un problema. E poi Claudio consentimi di tornare su OpenVar. Era nata come, ce l'ha detto anche ieri il presidente di Lega Calcio, come una trasmissione che avrebbe dovuto fare chiarezza e eh ed essere un'operazione di eh semplicità anche, spiegare alla gente cosa c'è dietro un episodio. Però se tu Gervasoni, rappresentante dell'AIA, vai in tv a dire che il fallo di Bissec è uguale a a quello che abbiamo visto nella partita con la Lazio e il gol andava annullato, poi non mi puoi dire che comunque arbitro e VAR hanno lavorato bene perché hanno seguito il protocollo. Ma come se tu la VAR è nata per correggere gli errori, se tu non correggi un errore non hai lavorato bene. Non si può dire sì il gol era da annullare però hanno lavorato bene. Ma tu te l'aspetti mai in una partita della Juventus in cui c'è un errore pro Juventus in cui il rappresentante dell'AIA va in tv e dice sì era rigore contro la Juventus però l'arbitro ha lavorato bene. Non lo direbbero mai secondo me. Esatto. Perché altrimenti ci sarebbe un movimento mediatico impressionante perché direbbero come? Cioè hanno favorito la Juve e dice pure che ha lavorato bene. E allora vedi che la mediaticità è la base di tutto il discriminante. E allora noi dobbiamo essere più mediatici, non c'è niente da fare. Senti curiosità, ha detto anche che Irrati ha sbagliato però è giustificato. Perché secondo te è giustificato Irrati da chi? Ah non l'ho capito perché ha detto che la spinta non era propriamente identica e quindi lui l'ha ritenuta più lieve lasciando poi la decisione al VAR. Il VAR non è intervenuto e quindi l'arbitro è salvo. Cioè c'è da diventare matti. No ma c'è da impazzire perché loro stanno impazzendo però vogliono fare impazzire anche noi ma non ci riescono. L'importante è ricordarsi sempre caro Mirco Nitolino che gli errori analizzati anche in Open VAR piuttosto che dalle istituzioni a favore della capolista sono errori a volte riconoscibili, riconosciuti e a volte anche chiari. Ma mai gravi mentre Juve Bologna è grave o gravissimo. Mettitela in testa. Ma mentre vengono citati poi questi episodi per cercare di equilibrare mediaticamente spariscono improvvisamente sempre in Juve Bologna il rigore su Chiesa che è un rigore solare sparisce il rigore su Vlaovic in Salernitana Juve. Non voglio citare l'episodio di Hildiz perché ne ho parlato. Io quelli lì non li darei mai. Però li è andati quest'anno. A Lautaro l'ho andato il rigore in quel modo. E c'è stato detto è un rigore televisivo basta il contatto e se il giocatore poi cade il contatto c'è stato e quindi è rigore. E per Hildiz invece la spiegazione qual è stata? C'è stato un contatto ma non un contatto tale da giustificare il calcio di rigore. Quindi improvvisamente il rigore televisivo così come... Te la ricordi la palla in attesa di Juve Roma? È sparita! La palla in attesa non esiste più. Quindi fammi capire riassumendo. Allora, se io appoggio un pallone e prendo il giallo, se lo calcia via un giocatore della capolista, è esatto con il tuo goniometro per giudicare l'angolo, non prende il giallo. Se c'è da fare una review del VAR, la capolista ce l'ha, io non ce l'ho. Se c'è un contatto in area di rigore, la capolista ha il calcio di rigore, io lo stesso episodio non ce l'ho. Se c'è da andare indietro e annullare un gol col VAR per un fallo in iniziazione, alla Juve lo annullano, alla capolista no, mi vorrei solo fermare qui. Scusa, detto tutto questo, è casualità? C'è un disegno? C'è il complotto? Cosa c'è che sta succedendo? Che ci perdiamo? Allora, io rimango dell'avviso che quello che hanno detto ieri Desiervo e Casini sulla classe arbitrale italiana che sia in questo momento la migliore d'Europa non corrisponde al vero. Quindi partiamo da questo, perché abbiamo visto tra l'altro in una partita della Lazio il gol di Acerbi che viene convalidato senza che si rendano conto che il portiere era oltre a Acerbi, quindi era fuori dalla porta e questo significa, è una mancata conoscenza del regolamento. Quindi partiamo da questo, abbiamo degli arbitri, dei VAR che dirigono partite del massimo campionato italiano e non conoscono le regole. Siamo a posto. Così, siamo a posto. Così come, ad esempio, abbiamo sentito una partita della Juve col Gemma che il pallone colpisce prima la gamba, l'abbiamo sentito ad Open VAR, colpisce prima la gamba e quel braccio. Regola che non esiste più dal 2021. Ora, possibile che in due anni quel VAR che era a Genoa Juve non sa che è cambiata la regola sul pallo di mano? Quindi partiamo da questo. Ci sono arbitri e VAR che non conoscono il regolamento che dovrebbero applicare e questo è un dato di fatto. Poi c'è una mediaticità che fa sì che gli arbitri, secondo me, non vadano in campo sereni. Perché? Perché se tu sbagli, sbagli a favore della Juventus, finisci sospeso, cioè non guadagni soldi. Sbagli a favore dell'Inter, come è successo nella partita col Verona, e tu continui a percepire soldi perché non vieni sospeso, vieni mandato in Serie B e magari fai anche più chilometri da casa tua per andare ad arbitrare in Serie B e guadagni anche più soldi. Oh, bravo a specificare, perché la stanno facendo passare come viene fermato. Eh no, non viene fermato. Eh no. E poi ricordatevi che gli arbitri vengono pagati a chilometraggio, quindi magari fa 200 chilometri in più e viene anche pagato di più per arbitrare in Serie B. E non è neanche corretto perché se un arbitro non conosce il regolamento, non lo conosce per la Serie A e non lo conosce per la Serie B. Perché deve andare a rovinare una partita di Serie B? Esatto. Non è rispettoso. Non è rispettoso. E questo cosa significa? Significa che non c'è serenità nell'arbitrare alcune squadre. E io ora stavo guardando una tabella che mi ha inviato un utente di Twitter che ringrazio. Il miglior arbitro italiano da sei anni, che è stabilmente tra i primi tre d'Europa, casualmente non può mai arbitrare l'Inter in big match. Ed è tornato ad arbitrare l'Inter dopo tre anni di sospensione. Ora, ci avevano detto che la sospensione, quella a lungo termine, non esisteva più. Allora, perché questo arbitro non entra mai nelle rotazioni delle partite dell'Inter? Orsato! Pjanic! Pjanic! E quindi, chi ha messo il veto? Perché non si può? Perché? Non ce l'hanno mai detto. Eh, vabbè, d'altronde l'amministratore delegato... Parliamo di calcio giocato, va bene. Ha detto che non è nel loro stile, nella loro storia commentare gli errori. Eh, ma infatti ha citato gli errori delle altre squadre. Cioè, scusami, ora Claudio, tu mi devi dire, quando mai abbiamo sentito, quando mai abbiamo sentito Andrea Agnelli andare in tv e dire, sì, vabbè, abbiamo avuto degli episodi a favori, però ce le hanno anche le altre. Ma che discorso è? Io prima volta, tra l'altro Marotta ha mai fatto una cosa del genere quando era la Juve. No, non mi ricordo, non mi ricordo. Cioè, secondo me questa frase, ieri è passata in cavalleria, ma secondo me è di una gravità assoluta. Cioè, sì, abbiamo avuto degli episodi a favori, ma anche le altre ce le hanno. Vedete quanti si lamentano. Eh, beh. Quindi vedi perché la comunicazione è importante. Perché uno dice, vabbè, ma l'amministratore o il direttore, adesso non so che ruolo abbia, della Salernitana ha fatto una brutta figura. No, ha colto in quello che era il suo obiettivo. Perché adesso qualcuno può dire, anzi, l'hanno anche scritto stamattina, la Salernitana si è lamentata, ma fuori luogo. Perché non ha niente di cui lamentarsi. Ah, ma per un fallo di due minuti prima del secondo giallo di Maggiù. Ma se tu parli, rimane che hai parlato. Quindi se la Lazio, che ne so, fa il silenzio stampa dopo che McKennie ha il pallone che è dentro il campo, diventa che il pallone è uscito fuori e diventa un caso a favore della Juve anche se non lo è. Questa è la forza dei media che molti, purtroppo, sottovalutano. Senti, stiamo per, intanto non si sa come, Mirko, incredibili amici, miracolo, in quel della Continassa, facciamo un acquisto. Jalò, primo acquisto di Giuntoli. Tiago Jalò. Lo facciamo, sì? Sì, 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 ormai è andato. E tra l'altro ci avevano detto che la Juventus non avrebbe potuto spendere soldi a gennaio e lo paghiamo quasi 7 milioni. E la vendita di Dragusi da Ranocchia al Palermo. Da Ranocchia, eccetera, eccetera. No, questo per dire che, come dicevamo, bastava fare delle cessioni anche di alcuni ragazzi e l'indice di liquidità della Juventus sarebbe tornato in positivo. Detto questo, giocatore molto forte che però a marzo 2023 si è rotto il crociato. Ora, per quello che so, ha già pienamente recuperato da un paio di mesi, ma non sta giocando perché appunto aveva rifiutato il rinnovo con Lille e Lille gli ha sostanzialmente detto se tu non rinnovi da qui a fine stagione stai fermo. L'Inter lo aveva prenotato a parametro zero, aveva già l'accordo totale con il giocatore per prenderlo a giugno e poi però c'è stata una squadra che si è presentata con i soldi veri sia a Lille e sia al giocatore e il giocatore ha accettato. Ora, speriamo che sia davvero recuperato perché se è recuperato, in chiave futura può utilizzare questi sei mesi per acclimatarsi. Mai mai Alessandro. Esatto, per acclimatarsi a Torino e poi l'anno prossimo essere un difensore pronto per entrare nelle rotazioni perché in questo momento, ricordiamolo, la Juventus ha solo Rugani come alternativa in difesa. Infatti mancherà Gatti la prossima e la Juvea sarà con solo tre difensori centrali e dovrà convocare probabilmente anche... Ma abbiamo prestato troppo presto, secondo te, Uisen? Allora, io ero favorevole al prestito di Aysen, però nel momento in cui hai Alessandro che ogni dieci minuti sul campo fa tre mesi in infermeria e hai una quantità di cartellini così elevata, un difensore centrale in più conviene sempre tenermi, secondo me. Però lì è stato Aysen che ha pressato fortemente per andare alla Roma e la Juventus, pur di non tenere un ragazzo scontento per sei mesi, ha deciso di accontentarlo. Senti, ma mi dicono che forse potremmo mandare in prestito anche Kent, ti risulta? Guarda, su questa cosa qui ci sono notizie contrastanti. Io sono più che altro preoccupato sulle condizioni di Kent perché effettivamente se tu non ce l'hai quasi mai a disposizione è un problema. Kent si era fermato per questa botta alla tibia dopo un amichevole della Nazionale a metà dell'anno scorso e poi recupera, poi di nuovo al dolore alla tibia, poi addirittura ad un certo punto Allegri ci dice che si deve fermare un mese per questa vecchia botta. Cioè c'è qualcosa secondo me di questo infortunio che non torna. E non vorrei che la Juventus stia cercando di, tra virgolette, disfarsene perché comunque c'è stata l'esplosione di Ildis. E in questo momento tu comunque quattro attaccanti bene o male ce li hai. Sì, perché un conto erano cinque con Ildis in panchina, un conto adesso che Ildis è diventato uno dei titolari praticamente. E nelle rotazioni. Senti, però io questa cosa di Jalò, mi sarei aspettato, sai che la Juve in genere, no, qualsiasi cosa è la Juve beffata? Non l'ho visto però nei titoli di queste ore. Aspettiamo che sia ufficiale per beffarmi. Allora, sì, Juve beffata o interbeffata, questo poi lo vedremo, ma questo attributo è sparito come sono sparite le classifiche senza errori arbitrali. Non si usano più, non si usano più. Magicamente, all'Harry Potter, con una bacchetta all'improvviso, puff, sparite le classifiche. E quindi Juve beffata è sparita da quando sono stati approvati i bilanci di Inter e Roma con quei patrimoni netti, negativi, assurdi, no? Che chiunque praticamente rischierebbe il fallimento domani mattina. E allora non si parla più di questa beffa sul mercato, perché la verità è che non ci sono soldi. Come ha detto Tiago Pinto, noi l'unico giocatore che potevamo prendere a Raiz perché l'abbiamo preso in prestito, quasi gratuito. Se gli facciamo fare dieci partite, paghiamo 300 mila euro anziché 700, non avremmo potuto prendere nessun altro perché non ci sono soldi. L'unica cosa che noi ci possiamo prendere invece è il primo posto, perché visto la situazione generica, ce lo meritiamo. Grazie Mirko! Grazie a te, un caro saluto a tutti, alla prossima. Ragazzi ricordatevi, iscrivetevi al canale, è fondamentale il commento, questo è il like, questo è il commento, faremo un video... Attivate la campanellina per le notifiche. Attivate la campanellina, insomma fate quel che volete, l'importante... E il metro e il compasso puntuali ogni volta. L'importante è che state con noi. Grazie a te, un caro saluto a tutti.